Facciamo invece adesso una serie di domande, quindi abbiamo visto quali sono le regole generali nell'e-commerce diretto, quali sono le regole generali e quali sono le soglie nell'e-commerce in diretto, andiamo a sfatare i miti o a chiarire quelle che sono le domande più classiche che ci vengono rivolte a noi di Tax Planning Internazionale. Quindi al numero 3 della nostra mini guida dell'attuale video troviamo la seguente domanda. Ho sede fuori dall'Unione Europea, fuori dalla comunità dell'Unione Europea, ma erogo servizi elettronici, quindi tramite internet, quindi e-commerce diretto a privati consumatori che invece li siedono in Europa. È il classico caso dei servizi di web hosting offerti magari tramite un provider americano, magari tramite una società nel Delaware, a un privato cittadino che risiede invece in Belgio, in Olanda, in Lussemburgo, in Italia, in Francia, eccetera, eccetera, eccetera. In questo caso il semplice, tra virgolette, semplice fatto di avere serial di fuori della comunità dell'Unione Europea non mi esonera dall'applicazione dell'IVA. L'IVA, e poi vedremo come verrà gestita, è comunque di competenza del paese del consumatore. Non ci dimentichiamo che l'IVA è un'imposta al consumo, quindi la vado a dichiarare, è territorialmente rilevante, si dice in gergo, nel paese in cui si trova il consumatore, quindi il consumatore belga dovrebbe applicare l'aliquota belga, il consumatore italiano dovrebbe applicare l'aliquota italiana del 22% su un servizio di web hosting erogato da una società con sede nel Delaware. Domanda, nonché punto numero 4. Ho sede nell'Unione Europea e fornisco servizi a privati consumatori non soggetti passivi, cittadini residenti all'interno dell'Unione Europea. L'IVA, in questo caso, dove va versata? Quindi che cosa cambia rispetto al punto 3? Che in questo caso è una società che ha sede legale e fiscale all'interno dell'Unione Europea e non extra web, ma la tipologia di servizi è sempre la stessa, servizi elettronici, quindi la famosa lista della direttiva IVA, servizi erogati di e-commerce diretto, volgarmente detto, che vengono erogati a privati cittadini consumatori residenti in uno dei 27 stati membri. Anche in questo caso, se vi ricordate la regola generale che abbiamo detto all'inizio, l'IVA è territorialmente rilevante, quindi è di competenza del paese, del consumatore, di nuovo imposto al consumo. Andrà applicata l'aliquota di rilevanza del paese dove si trova l'acquirente. In Europa la liquota più bassa, per esempio quella del 17% applicata dal Lussemburgo, segue Malta al 18%, segue Cipro al 19%, poi abbiamo la Finlandia al 24%, la Svezia, la Danimarca al 25%, chiude l'Ungheria con l'aliquota del 27%. Punto barra domanda numero 5, ho sede fuori dall'Unione Europea e fornisco servizi elettronici ad acquirenti europei, come posso ridurre il mio carico IVA? Quindi il caso è quello di un'azienda extra web che vende sempre servizi elettronici, quindi servizi a mezzo internet, quindi e-commerce diretto, non mi stancherò mai di ripeterlo per evitarvi confusione, all'interno ad acquirenti europei, diciamo privati consumatori, quindi sempre persone che non hanno la partita IVA. La regola generale, se vi ricordate, ci dice che l'IVA è a carico del consumatore. C'è però un ma e questo è una regola che può tornarvi utile in pratiche di tax planning sui flussiva. Abbiamo detto all'inizio, se non ve lo ricordate andatevi a ridere proprio i primi minuti del video, che i servizi di e-commerce diretto sono tali se l'intervento umano è minimo o semi-automatico, cioè il servizio è completamente automatizzato oppure l'intervento umano è assolutamente marginale, e quindi il servizio rimane immediatamente fluibile senza l'intervento di un deus ex machina, cioè di una persona. In questo facciamo un esempio semplice, cioè dobbiamo sapere che l'intervento umano, anche se chiaramente non esiste una soglia definita dalla legge di intervento umano. Noi sappiamo che però la legge ci dice che se quell'intervento umano è al di sotto di una determinata soglia, cioè è minimo, e allora l'IVA è di competenza del paese dell'acquirente. Se però l'intervento umano è cospicuo e notevole al di sopra di quel minimo previsto dalla legge, che però non è definito, ovviamente non è definito e discrezionale, e allora l'IVA è di competenza del paese del fornitore, di colui che fornisce il servizio. Esempio pratico per chiarirvi le idee, perché sicuramente non mi avrete seguito per colpa mia. Pensiamo ad una società nel Delaware che vende infoprodotti a un acquirente italiano. Dobbiamo andare a strutturare, o meglio, l'IVA è di competenza a quel punto degli Stati Uniti, quindi non si applica perché non c'è IVA negli Stati Uniti, se il corso online è strutturato in maniera tale che chi partecipa, quindi io, utente che l'ho comprato, posso per esempio porre delle domande ad un insegnante in diretta che poi mi dà delle risposte. Se riesco a strutturare il corso in maniera tale da prevedere l'interazione da parte del pubblico di fare domande, per esempio, quello potrebbe essere un intervento umano sopra la soglia, detto volgarmente, in cui praticamente in questa fattispecie l'IVA non è più di competenza dell'Italia, non è territorialmente rilevante in Italia, nel paese dell'acquirente, ma diventa rilevante nel paese del fornitore. Quindi facciamo attenzione all'intervento umano, soprattutto se siamo degli infomarketer, soprattutto se dobbiamo strutturare dei corsi e sappiamo bene quanto l'IVA influisca sul prezzo di vendita e sulla reazione da parte del consumatore e sulla possibilità di concorrere con i nostri competitor, facciamo attenzione probabilmente a senso prevedere la possibilità di interazione piuttosto che vendere un corso altamente automatizzato, perché magari sì, il corso altamente automatizzato noi non dobbiamo intervenire, è molto più scalabile, però l'IVA potrebbe fare tutta la differenza del caso. Passiamo avanti, punto numero 6, quindi allontaniamoci per un momento dai servizi elettronici e torniamo invece alle vendite a distanza. La domanda è che cosa succede in una società di e-commerce se questa non raggiunge il massimale di vendita all'interno di un anno? Abbiamo visto che i massimali, quelli al di sopra o al di sotto del quale io devo applicare l'IVA di un determinato paese piuttosto che di un altro, sono da rapportare al periodo di imposta, quindi vanno dal 1 gennaio al 31-12. Se con il periodo di imposta io sono sotto quella soglia, ed è questo il caso della domanda, allora io non ho necessità di applicare l'IVA di nessun altro paese, posso applicare l'IVA del paese del fornitore, del paese del cedente, quindi non ho l'obbligo per forza di identificarmi se non supero quella soglia. Quindi altra domanda da un milione di euro.